Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come opportunità per città e imprese, il distretto urbano del commercio di Trani, pone sotto i riflettori lo sviluppo del territorio e la rigenerazione urbana in un dibattito volto ad individuare le strategie più efficaci per la città, le sue aziende e la sua immagine. Noi siamo praticamente proiettati all'interno del secondo bando DUC dove abbiamo preso risorse economiche sia dalla regione che con una quota di cofinanziamento del comune verso la valorizzazione non soltanto della promozione delle attività commerciali ma stiamo lavorando anche a livello di governance del territorio. L'amministrazione che sarebbe la parte pubblica e noi come distretto urbano del commercio, le associazioni di categoria Commercio e Confesercenti stanno lavorando perché vogliamo portare all'attenzione della pubblica amministrazione tutta una serie di problematiche che conosciamo magari già a memoria da tanti anni ma che non si riescono a trasferire in maniera integrata con azioni concrete. Fondamentale anche la figura del partenariato pubblico e privato in una fase economica e politica che ha bisogno della massima attenzione sia per le gestioni finanziarie sia per quelle burocratiche. L'analisi del distretto urbano del commercio punta ad evidenziare le necessità principali della città di Trani, elemento focale dell'intera BAT. Un focus relativo alla rigenerazione urbana con attenzione allo strumento dei distretti del commercio come attivatore di politiche integrate nel quadro del piano nazionale di ripresa e resilienza e di tutte le altre forme di finanziamento e aiuto che in questo momento storico particolare possono essere utilizzate a livello territoriale. per lo sviluppo locale nella dimensione della prossimità che è quella che ci interessa approfondire in maniera intersettoriale.